Stanno arrivando diversi aggiornamenti sull'Inter che raccontano cosa può succedere nelle prossime settimane e soprattutto nei prossimi mesi, per rimanere sintonizzati e ricevere notizie in prima persona, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella, così potrete essere avvisato quando esce la prossima notizia da questa parte, andiamo. Nelle ultime ore c'è stato più di un contatto tra dirigenza e guida tecnica, tra marotta, ausilio e inzaghi. Occorre mettere ordine in tutto ciò che sta accadendo e, allo stesso tempo, guardare al futuro, quindi iniziamo guardando cosa sta iniziando a succedere a bastoni. Come abbiamo già riportato più volte, tra la richiesta del giocatore e l'offerta dell'Inter al momento c'è una netta distanza. Ehi, se sei un vero tifoso nerazzurro, allora lascia il tuo mi piace per restare aggiornato sulle news Inter, continua. Il giocatore chiederebbe uno stipendio base di 6 milioni di euro, mentre l'Inter sarebbe disposta a partire con uno stipendio base di 4,5 milioni di euro e bonus. Ci sono già stati contatti tra le parti e tra un mese le parti potrebbero essere a un tavolo per discutere l'affare. La volontà di tutti è quella di tenere Alessandro all'ombra del Duomo, evitando così uno screenerbis. Per ora la situazione è questa. Cosa ne pensi di questo? Lascio a voi la conclusione, lasciate la vostra opinione nei commenti, lasciate il vostro like e iscrivetevi al canale per ricevere le prossime news, a presto tifosi nerazzurri.